Lavorare, ascoltare, offrire progetti concreti che affrontino due temi centrali oggi. Da una parte la crescita economica che arriva solo con gli investimenti, la buona occupazione arriva solo con gli investimenti anche in capitale umano, cioè formazione e istruzione, e dall'altra parte tenere l'Italia come paese aperto, legato all'Europa. Così il segretario nazionale di Più Europa, Benedetto della Vedova, ad Ancona, è invitato dal coordinatore regionale Mattia Morbidoni per un summit con iscritti e simpatizzanti arrivati da tutta la regione, utile per indicare la strategia in vista delle prossime elezioni regionali. Alla serata hanno partecipato anche Gianluca Carraps, coordinatore regionale dei Verdi, e l'assessore regionale Moreno Pieroni. Il segretario regionale del Partito Democratico, Giovanni Gostoli, ha fatto pervenire un messaggio di buon lavoro, un impegno che da Più Europa, sperano presto, deve diventare comune. Di aprire un tavolo di confronto per il programma, perché poi è importante per i cittadini sapere quello che noi vogliamo fare per stimolare la creazione di posti di lavoro, la creazione di una rete infrastrutturale moderna e in linea con quelle che sono le regioni più avanzate d'Italia, perché poi questo facilita anche gli spostamenti e gli investimenti. Ecco, tutte queste cose qui ne dobbiamo cominciare a parlare e possibilmente farlo entro settembre. Grazie.